Il 23 aprile siamo stati invitati a Lecce, più precisamente alle officine Cantelmo. Lì c'è stata una fiera chiamata All Games dedicata ai videogiochi. Ovviamente c'eravamo anche noi a gestire l'area gaming ed è stata una figata mostruosa perché abbiamo avuto la possibilità di condividere le nostre esperienze di gioco insieme a voi. A parte che eravate tantissimi, veramente tanti, e gestirvi è stato abbastanza bello perché alla fine non avete fatto molto casino. Bello è stato anche il torneo di Super Smash Bros che è stata wow, cioè io quelle cose non le so fare quindi per me siete mostruosi. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al torneo e soprattutto ringrazio Merlo e i finalisti che hanno fatto una finale della Madonna sul palco. Cioè, raga, è stato mostruoso, è stato bellissimo. Belli anche i due workshop che ci sono stati. Uno riguardante i videogiochi e i giochi in generale, 20 consigli sui giochi. Bello anche il workshop riguardante il doppiaggio dove uno dei due presentatori, il ragazzo, ha dato la sua esperienza personale a tanta gente. Lui a quanto ho capito faceva doppiaggio, doppiava film, roba del genere. Ok, bello e interessante anche quello. C'erano anche i ragazzi del combattimento medievale che hanno fatto una sorta di torneo che avevano delle armi di carta pesta e si menavano come non mai. Bellissimi anche quali mi sono piaciuti tantissimo. Spero di ripetere questa esperienza che c'è stata all'All Games nelle prossime fiere anche perché sono stati tutti gentilissimi, tutti simpaticissimi. Anche voi, alcuni di voi c'erano e cioè, figata, c'è gente che ci segue, che bello. Se il video vi è piaciuto, io vi ringrazio per l'averlo visto. Lasciate un mi piace, un commento e una condivisione. Noi ci vediamo, alla prossima.